benvenuti da auto moto marco una vetrina con tante belle novità tante auto nuove come vedete anche nelle immagini ma soprattutto vi ricordo che questo è il mese più vantaggioso per fare i vostri acquisti ciao sandro ciao palma hai detto benissimo e vi ricordo come sempre che noi acquistiamo il vostro usato pagandolo immediatamente ma a questo punto andiamo a vedere tutte le nostre nuove proposte e partiamo subito con un opel adam 1.2 del 2013 a 7.500 euro una kia picant a un mille 20.000 chilometri del 2016 7.500 euro una panda con gpl a solo 5.900 euro abbiamo un nuovo arrivo per questa lancia y del 2018 con impianto gpl dalla casa madre a 9.600 euro una b max si tratta di una mille turbo del 2013 full full optional a 6.900 euro suzuki ignis 2017 con pochi chilometri 8.900 euro tante proposte con l'impianto gpl qui in corso orbassano questa dacia mille turbo con gpl dalla casa madre del 2017 6.950 euro un appunto tre porte con gpl del 2012 4.800 euro ne abbiamo un'altra del 2016 5 porte a 6.900 euro una bellissima opel carl del 2017 20.000 chilometri a 7.900 euro una lancia y del 2012 solo 60.000 chilometri unico proprietario a 6.300 euro una twingo del 2015 ma venite a scoprire il prezzo qui in corso orbassano ancora nuovi arrivi una c3 del 2018 con 29.000 chilometri a 9.900 euro ancora in garanzia ufficiale una tipo 1400 con impianto gpl a 9.900 euro coperta da 12 mesi di garanzia e una smart cabrio del 2016 a 12.900 euro per chi ha bisogno di spazio due bellissime station wagon un volvo v60 del 2014 a 11.500 euro e una tipo con cambio automatico del 2017 a solo 11.300 euro fiat panda del 2018 a 7.500 euro lancia y con impianto gpl 7.900 euro del 2016 opel adam con impianto gpl 2015 44.000 chilometri 8.900 euro una urban runner con il pacchetto brabus cambio automatico a navigatore 12.900 euro interamente finanziabile ford b max con impianto gpl 8.900 euro opel mocca con impianto gpl del 2015 a 12.500 euro 500 x cross con 12.000 chilometri 2019 a 15.900 euro una renegade del 2018 17.500 euro una sportage del 2018 benzina a 16.500 euro mercedes glc full full optional 24.500 euro del 2015 jeep compass del 2017 modello opening edition 22.900 euro grazie sandro buone feste grazie a te e un augurio a tutti quanti e tanti auguri anche a voi alla prossima